La poesia di oggi è di Eugenio Montale ed è tratta da una raccolta del 1971 che si chiama Satura. È una raccolta divisa in quattro sezioni e nella quale si trova quella celebre sezione appunto raccolta di componimenti dal titolo Xenia che sono le poesie dedicate alla moglie che era scomparsa da poco. Siccome qualcuno di voi mi ha chiesto di leggere appunto una poesia tratta proprio da quella sezione di testi in particolare quella che dice ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. Io invece ho voluto, non per contraddirvi, sceglierne un'altra proprio perché quella poesia è talmente celebre, talmente famosa, si trova un po' sempre citata quando si parla di Montale forse per la sua intensità, per la commozione che suscita e per la facilità del dettato che appunto io ho scelto invece, ho voluto fortemente scegliere un'altra poesia. Allora la raccolta Satura già dal già dal titolo fa riferimento alla satira, a un genere vario tanto per argomenti quanto in modo particolare per linguaggio e raccoglie delle riflessioni satiriche su oggetti e situazioni del quotidiano con un linguaggio rispetto al montale che conosciamo, al montale tradizionale sicuramente più semplice, più di immediata comprensione. È una raccolta che ha un sapore diaristico e appunto parla di situazioni del quotidiano e da un ritmo poetico più scorrevole appunto, più semplice da comprendere. La poesia che ho scelto io si chiama Appianterreno. Appianterreno proprio il piano basso in apparenza montale vuole avere un tono, un tono dimesso e scegliere appunto un pianterreno lessicale, un pianterreno del ritmo e del tono poetico. Protagonisti di questa poesia sono, scusate, protagonista di questa poesia è un animale, il porcospino. Il porcospino è un animale da bestiario medievale sicuramente, ma è anche un animale che Montale conosce perché è protagonista di un famoso dilemma di Schopenhauer, appunto il dilemma del porcospino. Se i porcospini stanno troppo vicini si fanno del male, se stanno troppo lontani non riescono a toccarsi e quindi la questione che poneva Schopenhauer era quella della moderata distanza reciproca. Nella poesia di Montale gli animali compaiono molto spesso, c'è l'upupa, c'è l'anguilla, insomma ce ne sono diversi. In questo caso il porcospino è il correlativo oggettivo, è il simbolo della socievolezza e del bisogno di vicinanza che l'uomo ha nei confronti degli altri. Il porcospino compare anche in un'altra poesia di Eugenio Montale che si chiama Notizie dalla miata. È una poesia, un testo molto molto complesso e in essa i porcospini arrivano alla fine del componimento a rappresentare, come dire, un momento epifanico. Nella distanza che il poeta avverte fra sé e la donna amata, una distanza naturalmente dolorosa, i porcospini si abbeverano a un filo di pietà, quindi sono una sorta di animali mistici che riescono appunto con un modo di pietà a rompere, a spezzare la distanza fra il poeta e la che ama, quindi a rappresentare la contraddittorietà sciopena ueriana tra presenza e assenza, dolore e distacco. La poesia a pian terreno invece che ora vi leggo è molto semplice, ma non fidatevi mai della semplicità dei poeti. A pian terreno scoprimmo che al porcospino piaceva la pasta al ragù, veniva a notte alta, lasciavamo il piatto a terra in cucina, teneva i figli infroscati vicini al muro del garage, erano molto piccoli, gomitoli. Che fossero poi tanti, il guardia, sempre alticcio, non era sicuro. Più tardi il riccio fu visto nell'orto dei carabinieri, non ci eravamo accorti di un buco tra i rampicanti. Io vi mando un caro saluto e vi do arrivederci alla prossima poesia. Grazie a tutti.